Buon pomeriggio e bentornati sul mio canale, sono appena partito in direzione Montesole, un monte molto semplice, però è male, ma vedete un po' più qua subito e se parto amici. Alla abbiamo degli altri amazing camper, non ho capito che camper è, è un McLuis. Allora, interessante però questo oggetto di nome McVan, perché sembra un po' il discorso del Kobo, anche se ha gli specchietti larghi, ma non ha gli specchietti piccoli, quindi l'hanno chiamato McVan, ma alla fine è un semi integrale, mi sa, da due e tre, o qualcosa del genere. La comana di Amaigi camperisti si allunga, adesso siamo in tre. Grazie a tutti. Bella raga, sono arrivato nello spottino previsto, ma non c'è spiano qua, è un casino fottuto, ho dovuto piantare il camper alla vacca madonna qua, che è veramente veramente un macello, perché chi detti busi è in case, quindi il camper non è un cazzo in spiano e adesso vedrò se restare qua e andrò giù, adesso qua c'è ancora della gente, vedremo. Sì, infatti che twist lo schiaccione. Aspetta, questo è il panorama dalla finestra. Aspetta, questo è il panorama dalla finestra. Aspetta, questo è il panorama dalla finestra. Bella raga, allora siamo arrivati in questo spottino sul monte sole, dopo 200 manovre, finalmente sono venuto a mettere il camper quasi in bolla, un grado e due, un grado e mezzo di scarto. e niente, qui sta tramontando il sole, vedete tramonto da ufo, aspettate, non c'è il cazzo di nessuno, che cazzo vuoi di più della vita, vecchio silhouette, un gatto? No, vabbè, troppo figo, vada, ciaone, che bello, il monte Pedro. Grazie.